Questa è la scena che si è presentata agli occhi di alcuni dipendenti dell'Asura e dei residenti del condominio Aurora. Quando sono andati a riprendere le loro auto posteggiate nel parcheggio privato di Via Canale Albani, si sono ritrovati le gomme delle auto a terra, ma non tutte, solo una per vettura e nella parte anteriore. Una brutta sorpresa anche per il signor Angelo. Ieri mentre sono uscito erano leggermente sgonfe le gomme delle ruote, avevo siccome in dotazione delle bombolette con la scuma che possono provvisoriamente tamponare l'abbassamento della macchina e ho visto che sbandava la macchina, mi sono fermato e siccome avevo in dotazione queste bombolette le ho adoperate. Sono atti vandalisi, a me mi hanno anche rigato la macchina e qui non è la prima volta, mi hanno rotto anche degli spicchietti. Secondo lei chi è stato? Ci sono degli screzzi qua intorno tra esercenti o condoni? Sì, ci sono degli screzzi con il vicinato qui della Via Boccatabaria, ma ci sono anche vandali che vanno a cercare le borse dentro le macchine, malintenzionati, estro comunitari, viaggiano un po' di tutto perché questo è un portofranco, è un via di gente che delle volte io non conosco, anzi mi viene l'istinto di chiedere chi sono, ma mi rispondono male, gli dici ma chi è lei? Delle volte ho avuto delle discussioni. Angelo dice di aver contattato l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini per chiedere maggiori controlli per chi posteggia l'auto in queste aree di sosta riservate a clienti e utenti delle attività commerciali. Ha detto una soluzione ci sarebbe che quella di riservare a voi dei posti con un canone diciamo simbolico e per il resto bisogna mettere delle strisce blu ad orario, un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, in maniera che chi viene qua per le attività commerciali dopo un po' se ne va per fare subentrare altri. Però non c'è un controllo effettivo, un vaglio di quelli che sono gli effettivi inquilini o comunque proprietari di appartamenti che hanno un contrassegno si possa identificare. Bisognerebbe avere invece dei listali con il proprio contrassegno in maniera che si possa avere la garanzia del posto in macchina. Sull'atto vandalico stanno indagando gli agenti del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti che dovranno visionare le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso.